allora eccoci qui per i nostri incorti virtuali di hot corn Barbara che ogni tanto noi ci incontriamo incrociamo stavolta ci vediamo come stai? Molto bene tu? Bene bene tutto bene senti emozionata com'è questo ritorno non solo a Cannes ma anche con Marco Bellocchio come ci sei finita in rapito? Ma allora ho fatto un provino più di uno in realtà perché perché era importante ho fatto un provino da sola e poi ho fatto un provino insieme ad Enea che era che era poi che poi il bambino che è il bambino che poi ha fatto l'abito. Ma spieghiamo l'importante perché il tuo ruolo Barbara è quello della madre di Edgardo Mortar cioè la è la chiave. Io sono Marianna Padovani sì sono sono la mamma di Edgardo ehm ed era importante immagino credo che già già dal provino si creassero no? Si creasse una connessione tra noi due quindi eh c'erano anche altre attrici ovviamente che hanno fatto il provino hanno fatto il provino con altri bambini quindi eravamo accoppiati e magicamente io e Enea eravamo la coppia era come se cercassero la coppia credo. Certo perché madre figlia è fondamentale. Si e quindi già dal provino. Tu avevi già avuto esperienza con Marco Bellocchio com'è lui sul set con Fai bei sogni no? Nel 2016. Ho fatto ho fatto Fai bei sogni eravamo andati alla alla Kenzenna tra l'altro lo stesso anno e no era bellissimo che ti dica io quello che avrei voluto nella vita era almeno almeno rilavorarci insieme un'altra volta perché è come se poi no poi devo dire è stato molto bello perché quando sono lavorato nel 2016 ero una ragazza ero appena uscita dall'accademia ero all'inizio lui mi scelse quasi no incredibilmente per me è stata la mia la mia educazione sentimentale al cinema l'inizio di tutto ritrovarlo da grande con con un ruolo sempre di madre però cioè la mamma di Fai bei sogni aveva era era negli occhi del bambino era nei ricordi del bambino era una madre ragazza era una madre che era leggera eh vitale quasi no? Nonostante la storia era tutto nell'immaginario del bambino questa invece è una madre che è assolutamente che che vive tutto quello che non riesce a vivere il bambino lo vive lei no? Quello che il bambino non riesce a spiegarsi lo vive lei proprio sulla sulla sua pelle insomma è stato bello rincontrarlo in questo momento del mio percorso d'attrice con questo ruolo. Certo anche più matura. Come ti sei preparata al al ruolo? Sei informata? Poi la storia è una storia che viene da da lontanissimo pure Spielberg ci sta lavorando fin da almeno 15 anni che si sa poi è ancora lì. Hai letto? Hai letto libri? Ti ha dato i compiti a casa? Io ma io 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 non conoscevo la storia di Edgardo Mortara quando poi abbiamo iniziato la preparazione che è stata piuttosto lunga e impegnativa perché noi abbiamo delle parti in ebraico abbiamo siamo andati con Fausto eh più volte siamo andati alla sinagoga eh siamo andati a vedere eh il insomma la il come se fosse il insomma il bar mitzvah abbiamo abbiamo partecipato a delle a delle attività con la comunità ebraica sia di Roma che di Bologna eh che ci hanno anche molto supportato cioè ci hanno anche eh non istruito sulla storia perché quella poi è stata una vicenda che non era almeno così è stata particolare per per il momento storico in cui è avvenuta però come si vede nel film no quella quella quei bambini erano tutti rapiti quindi era era una cosa a cui erano abituati no anche quando viene il gendarme a casa è una cosa che loro capiscono subito no che che sta per accadere quella cosa quindi come si spiegava anche la comunità ebraica non era proprio una novità questa eh questo prelevamento coatto di qualcuno avveniva anche per strada eh battezzavano anche quando incontravano qualche ebreo per per caso per strada lo portavano in una chiesa che è vicino al ghetto di Roma e lo battezzavano di notte era proprio era era una procedura poi nel caso di Edgardo no nel caso di quel processo di quella storia di quella ragazza che la battezzato è è ancora è una specie di di unicum perché lei l'ha fatto quasi per amore no ma insomma questa è un'altra storia noi siamo preparati più che altro per per capire le com'erano le procedure nella nella famiglia per quanto riguarda le le attività che facevano dentro casa legate alla religione perché un po' perché sia io che Fausto non siamo ebrei ma era importante che noi conoscessimo le procedure ehm perché c'è tanto di questo c'è tanto di questo tanto ricordiamo Fausto e Fausto russualesi che fa padre del del bambino senti Barbara che rapporto è invece con con Cannes che quanto significa quanto importante portare poi non fin così ma secondo me è che chiaramente è uno dei festival più importanti del mondo quindi immagino che quando insomma andare no invitati da dal festival sicuramente è già una un'emozione grande poi ovviamente ci sono dei registi che hanno un rapporto con Cannes no quindi eh come nel caso come il caso di Marco Bellocchio quindi ehm ci speravamo un po' tutti quanti che di arrivare lì di presentare lì eh di vederci sulla sulla Monte dei Marci insomma è molto bello perché 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 è una festa perché ti rivedi tutti tutti felici del risultato del film no perché insomma è un bel momento secondo me per festeggiare per 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 festeggiarsi. Esatto per celebrarlo. Senti Barbara anche un momento bello per te sei irreduce al Davide Donatello per un film piccolo ma grande che noi avevamo amato già ai tempi settembre di Giuseppe. Te l'aspettavi? ehm lo mettevo lo 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 annoveravo nelle nella possibilità che accadesse eh devo dire che c'era stata una grande ho avuto tanti attestati di amore e di stima anche da parte di colleghi o di no operatori che insomma mi sembrava che ci fosse un'attenzione particolare per questo per questo film e forse anche un e forse è è stato un premio che è arrivato proprio per dimostrarmi la stima che che hanno appunto ripeto i colleghi di me ecco perché poi io sono felice del lavoro che ho fatto per per settembre era già stato un anno dove c'erano stati tanti riconoscimenti per me per il film però devo dire che le altre candidate avevano fatto tutte era era veramente una cinquina bellissima cioè chiunque avrebbe chiunque altra avrebbe vinto potevamo dire no se l'era se l'era meritato quindi sono sì sono i premi sono anche così sono premiano tante cose secondo me oltre oltre alla performance e quindi arrivano sono molto sono sono molto felice tra l'altro in questo anno qui oltre a settembre abbiamo visto il film di Ptonomaso Paradiso e poi in era ora su su netflix che che hanno stato per te come l'hai vissuto perché alla fine è stato non è sbagliata una praticamente anche il corto alla festa del cinema di roma bellissimi daniele babbo daniele coprirà tutte le cose esatto no ma è stato cioè tanto caso tanta fortuna non è che non è che stai lì a non è pianificato no è solo che insomma hai la sensazione che che le scelte che hai fatto erano scelte erano scelte giuste magari scegliere un film piuttosto piuttosto che un altro oppure fare devo dire anche il film anche il film di di Tommaso per esempio per me è stata una grande palestra perché con Marco Cocci è stata è stata una grande una grande palestra e mi ha dato anche una una certa consapevolezza non so come dire sono quelli ecco quella è stata un'opera prima che che abbiamo quasi fatto tutti insieme no essendo sì essendo che Tommaso era proprio era regista ma era anche spettatore no era era quindi insomma tu d'attore hai anche una responsabilità in più secondo me sulla riuscita di un film e quindi insomma sono stata molto felice di fare mi ha insegnato anche delle cose tecniche no e poi poi era ora devo dire ho visto il film eravamo tutti felici perché era una bella commedia ma anche insomma no che riusciva a coniugare anche anche il dramma forse è meno commedia di quanto uno si potesse immaginare però insomma il successo che ha avuto anche grazie a netflix insomma non 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 credo che non era preventivato no no esatto no senti barbara tu invece da spettatrice che spettatrice sei che sono le tue attrici preferite invece quelle che ogni tanto guardi e a cui rubi magari oppure lì c'ha vedi però gli ha fatto così ma guarda no devo dire che ci sono devo dire che poi sono sono attrici attori cioè mi piace anche prendere tanto sono anche degli attori che io che amo no da cui da cui rubi no alla mia mi piace tantissimo Greta Gerwig mi piace tantissimo anche come attrice come 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 regista mi piace tanto mi piace timote e chalamet per esempio tantissimo trovo che sia che abbia una una dolcezza un disincanto e poi improvvisamente per esempio bonzettolo l'ho amato no sia lui che il film ma ce ne sono tanti ce ne sono tanti e di mostri sacri di mostri sacri beh se consideriamo anche mostri sacri Luca Marinelli e Alessandro Borghi dopo aver visto otto montagne ho detto beh queste sono queste sono due sono due montagne è stato bellissimo come come sono riusciti secondo me a mettere insieme la realtà del loro rapporto no che vediamo tu che che è sotto gli occhi di tutti e a mettere a concederlo per un racconto per un racconto di immaginazione no quindi è vero è già un classico moderno di fatto sì veramente veramente e no poi è meglio come tutti d'altronde è una novità però per me è bellissima di Anna cioè di Anna Magnani si si è inarrivabile quasi tutto quel quasi tutto quello che ha fatto Anna Magnani è meraviglioso secondo me cioè aveva era proprio una novità era proprio una aveva una modernità no così che non 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 pensava minimamente al secondo cioè lo pensava perché chiaramente ci sarà stato uno studio anche su di lei no non era forse così non era assolutamente non c'era assolutamente naività in lei però era era molto moderna nel dire non mi interessa come 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 appaio no non mi interessa non avrebbe mai voluto un filtro Anna Magnani per esempio davvero è verissimo senti per chiudere qual è il tuo fin del cuore quello a cui ritorni ogni tanto io davvero io io bellissima per me bellissima per me perché fa un giro perché bellissima è come se fosse adesso forse lo chiameremo chiameremo drammi di bellissima no perché ha perché bellissima riesce a riesce ad avere dei momenti di grande commedia no quando è lei a casa quando è lei quando quando si sente che sua figlia è arrivata quando ma anche la scena con con basterchiari bellissima giù sulla hanno delle scene di grande commedia e poi improvvisamente quando lei capisce quello che sta succedendo dove 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 sta portando sua figlia dove è finita lei a questo cambio dove tutti ci emozioniamo no e ci commuoviamo perché lei non si la è un film che in qualche modo racconta anche una persona che si è lasciata affascinare dal mondo del cinema no pensando che chissà cosa fosse e che invece poi realizza che che la sua vita è molto meglio che la no che non vuole perdere quello che ha che il cinema la stava già cambiando già stava diventando qualcosa no di insomma inesistente che deve proteggere sì che deve proteggere sua figlia e che e quindi il ritorno a casa quando lei capisce questa cosa è si ritorna nel nella commedia è la è proprio per me è il film il film perfetto bellissimo tra l'altro altro ruolo di madre è veramente modernissimo se pensi se oggi cambi qualcosa cambi il cinema di qualcosa altro e tiene tutto benissimo vale sì ma poi vale in qualsiasi vale proprio finché vale in qualsiasi campo potrebbe essere la mamma col 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 figlio che deve essere che lo vogliono alla so alla primavera della Roma no ma gli chiedono delle cose tipo non potrei più vedere tuo figlio si deve allenare ottocento e poi capisce magari tuo figlio non è così non lo vuole fare sì direi bellissima però insomma se passa poi se passa e ti in televisione me lo guardo e beh certo e ti non non si prescinde senti grazie mille per per il tuo tempo e allora aspettiamo che rapito al cinema Barbara Ronchi grazie mille ciao 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 ciao